possiamo chiudere la finestra sfoglia e con l'opzione mix apriamo il mixer questo è sicuramente l'ambiente più interessante di studio one le potenzialità che ha questo mixer sono infinite grazie proprio al sistema di routing che hanno creato e al sistema di visualizzazione anche delle tracce come vediamo è semplice lavorarci vediamolo nel dettaglio allora stacchiamolo dall'arranger così avremo una finestra separata da poter utilizzare anche su un secondo monitor come faccio spesso in questo caso il mixer funziona pressa poco con la stessa interfaccia dell'arranger quindi non è molto diverso la sezione io se noi clicchiamo all'interno accediamo immediatamente all'ingresso e uscita della scheda audio senza dover passare dai menu a tendina come abbiamo visto infatti non ho mai aperto le opzioni dal menu a tendina ma tutte quante da pulsanti all'interno dell'interfaccia questo è studiato appositamente per chi utilizza i touch screen per cui non ha bisogno di lavorare troppo con il mouse in questa finestra abbiamo la possibilità di mantenere ad esempio i canali effetti o bass o i vca in una certa posizione del mixer un po come accadeva su logic o su cubase oppure mantenere l'ordine dei canali con la traccia a cui associata molto pratico quando si fanno certi tipi di arrangiamenti la visibilità qui il modo di mostrarli in base a come vengono organizzati in questa sezione dell'arrangiamento la colorazione del canale se noi vogliamo la stessa colorazione sul lungo tutto il canale per esempio per una visualizzazione rapidissima o delle tracce importanti o dei bass in questo caso per esempio noi facessimo questa rossa sarebbe tutto completamente rosso richiudiamola la connessione vca come vedete sotto al fader si apre una piccola finestrella che ci mostra il numero del vca a cui poi sarà associata molto pratico proseguendo sotto abbiamo la possibilità di costringere il mixer in una posizione più semplice da gestire riportiamo le modalità o costringerlo lateralmente quindi in modalità più semplice più stretta e quando avremo molti canali da gestire con questa opzione guardiamo soltanto gli ingressi infatti in questo caso stiamo ascoltando il microfono che entra nel preamplificatore della audience le uscite di tutta la scheda che io possiedo il cestino qualora noi avessimo distrutto alcune cose la possibilità di vedere le periferiche esterne quindi quelle midi e la possibilità di vedere gli instrument c'è un rack instrument in questo lato simile a quello di cubase molto pratico in cui noi possiamo aggiungere degli instrument molto rapidamente ad esempio un synth eccolo qua e successivamente assegnare una traccia midi a questo rack instrument in questo modo possiamo creare una song progetto di base con già gli strumenti che noi utilizziamo più frequentemente per gli arrangiamenti e quindi automaticamente averli già aperti ogni volta che apriamo una song semplice con questo pulsante togliamo anche la visualizzazione delle tracce in questo caso vedete queste due tracce instrument sono presenti nel mixer noi possiamo escluderle così ovviamente ogni traccia è trasportabile nella posizione desiderata senza dover fare manovre strane nella sezione sottostante abbiamo la possibilità di escludere i canali audio escludere o accendere i canali midi gli effetti i bass e i vca qualora ci fossero andando verso destra troviamo in questo caso il master sempre sulla destra in maniera che possiamo tenerlo sott'occhio costantemente ogni canale ha come per qualunque altra do gli insert in questa sessione i send in quest'altra la possibilità di un qmix in questo caso sulle casse adam pilotabile così e o appunto possiamo utilizzarlo anche per delle cuffie un uscita cuffie per i musicisti scendendo ancora troviamo gli ingressi quindi la scelta dei pre o degli ingressi delle scheda audio la scelta dell'uscita dei bass della scheda sulla scheda audio quindi l'uscita o nelle casse o in alcuni degli hardware che sono collegati al mio sistema il pan il father mettiamo il pan al centro il mute è il solo che abbiamo già visto nei vari singoli canali il monitoring record e la possibilità di aprire il canale di editor dei plugin questa è una delle cose più belle che a studio one che non possiedono le altre do facciamo un esempio adesso in questa sessione di insert ho inserito soltanto un plugin ma mettiamone altri mettiamoli a caso un psp carichiamo un micro warmer poi mettiamo un timer carichiamo un lottari per esempio questi sono quattro plugin all'interno della stessa catena ovviamente a parte spostarli in serie quindi prima uno poi l'altro quindi sceglierli spostandoli così possiamo anche creare una catena parallela all'interno del canale normalmente per fare questo dovremmo aprire un canale aggiuntivo e utilizzare le opzioni di send per poter avere in parallelo l'effetto nello stesso canale con studio one tutto ciò è molto più semplice si accede al canale si va nella sezione del routing eccola qua e con lo splitter decidiamo di inserire l'opzione parallela in qualunque punto noi volessimo utilizzare questo tipo di opzioni quindi adesso il segnale passa attraverso il lottari poi nel micro warmer poi viene splittato e va una parte nell'all timer una parte nell'open air in questo caso possiamo scegliere tra i due plugin sullo splitter la quantità di dry e di wet che passa all'interno di un singolo plugin oppure spostare questo sotto e far sì che soltanto l'all timer possa essere utilizzato in modalità parallela infatti se noi lo clicchiamo all'interno non abbiamo l'opzione del mix quindi scegliere quanto di questo effetto deve influenzare la catena in questo caso possiamo far sì che l'effetto abbia un'influenza minore rispetto al segnale dry che è arrivato a questa parte per poi finire in un altro plugin questa è un'opzione fantastica per chi lavora sulla compressione parallela e sull'utilizzo anche dell'equalizzazione in maniera parallela torniamo ancora sempre nella finestra dei plugin e analizziamo questa opzione qui questo è un controller che può essere assegnato anche ad un controller esterno in cui avere sotto mano immediatamente i parametri dei singoli plugin più importanti ad esempio noi vogliamo che questo potenziometro diventi una parte di un controller di questo plugin ad esempio il mix o il gain facciamo sì che tornando qui ognuno di questi venga assegnato ad un parametro si clicca qui si sceglie per esempio il lottery che abbiamo appena visto e scegliamo il plugin di mix associato alla manopola 1 aggiungi target eccolo qui alla manopola 2 aggiungiamo il target dell'out così poi alla manopola 3 andiamo sul micro warmer e vogliamo associare il parametro di output di questo plugin quindi qua manopola 3 micro warmer output aggiungi alla manopola 4 aggiungiamo un controller che si trova sull'old timer che è il time quindi torniamo manopola 4 old timer time aggiungi target e stessa cosa per gli altri diciamo controller degli altri plugin andando ritornando appunto nella sezione principale quindi togliando questo abbiamo la possibilità di regolarci velocemente anche con un controller esterno come il machine questo tipo di parametri senza dover ogni volta aprire i plugin all'interno della catena un sistema unico che difficilmente troveremo in altre piattaforme queste sono le funzioni principali del mixer audio ma veniamo ai bass allora scegliamo per esempio un paio di tracce e facciamo sì che queste tracce facciano riferimento ad un bass quindi le selezioniamo col tasto destro del mouse facciamo aggiungi bass per questi canali selezionati e voilà automaticamente viene indirizzato sul bass 1 che troviamo qui a destra lo coloriamo e in questo modo possiamo pilotare l'uscita delle due tracce subito sopra il bass troviamo questa barra che non è presente nelle altri canali e che ci indica quali tracce sono collegate al bass molto semplice per poter capire una volta nascoste le tracce per esempio in questo bass quali tracce ci vanno quindi scegliamo per esempio audio 1 e lui la mette subito in evidenza possiamo aggiustarla e poi rito a nasconderla eccolo qua questo per quanto riguarda la funzione del bass oltre alla traccia bass possiamo aggiungere la traccia effetti o una traccia vca ma veniamo a noi aggiungiamo una traccia effetti aggiungi canale effetto apriamo un riverbero mettiamo rev automaticamente ci porta nei plugin e quindi ne scegliamo uno al volo utilizziamo mixverb e abbiamo il canale effetto eccolo qui già pronto per essere utilizzato ogni traccia ha ovviamente una sua sezione send dove poter aggiungere il canale effetto o gli effetti presenti nel bass eccolo qua e qui possiamo regolare la mandata del riverbero di questo canale con questo pulsantino lo mettiamo in prefader aggiungiamo adesso una sezione vca allora riportiamo le tracce audio in evidenza le prime due sono assegnate al bass 1 le altre le assegniamo a un vca aggiungi vca per questi canali ecco qua questo vca 1 viene già indicato nella parte sottostante delle tracce a cui fa riferimento stesso discorso qui sappiamo esattamente nel canale vca quali tracce fanno riferimento a differenza del basso ovviamente il vca pilota i singoli fader in maniera proporzionale facciamo un esempio muovendo questo eccoli qua che si muovono proporzionalmente perfetto per il controllo del mix riguardante le parti orchestrali l'ultima cosa interessante da guardare è il mix effects ossia il console shaper che viene aggiunto ad ogni singolo bus e al master in questo modo possiamo far sì che ogni bus abbia la possibilità di essere collegato ad un'emulazione di una console reale in questo modo avremo tutti i difetti della console reale tra cui il cross talking il noise e la distorsione armonica stesso discorso per il bus master cioè nel bus master abbiamo la possibilità di mettere degli insert quindi dei plugin in insert dei plugin in post e dopodiché poter controllare l'accensione del metronomo il volume del metronomo da qui la possibilità di ascoltare in mono stereo la traccia del master e come per gli altri canali la possibilità di lavorare sul controller dei plugin per quanto riguarda il mixer di studio one è tutto spero che abbiate visto cose interessanti rispetto alle altre piattaforme e vi consiglio di scaricare la demo e provarlo immediatamente e vi consiglio di scaricare la demo